La nostra vita privata è sempre rimasta molto privata. Papà ha sempre fatto un lavoro che lo portava ad essere esposto, però ha sempre cercato di mantenere il nucleo familiare a casa, anche per permettere a noi figli di avere la libertà, che credo che abbia un valore inestimabile, quello anche di poter scegliere se effettivamente voler essere un personaggio pubblico oppure no. Ogni tanto il cognome di papà ha creato delle critiche, le hai sentite, ci fai caso? Sì, è normale sentirle, però ti dirò, io conosco realmente il mio percorso. Mi rendo conto che tante volte il pregiudizio sia difficile da allontanare, anche perché è umano. Viene distinto, credo, un po' a tutti pensare con un cognome famoso, ah sì, vabbè, lei è lì perché è lì. Io sono consapevole anche del fatto che non si possa piacere a tutti, però credo che prima di giudicare una persona debba conoscere. Poi sono apertissima anche alle critiche costruttive. Grazie. Grazie. Grazie.